Siamo qui con un assessore speciale perché è l'assessore di Roma al sedicesimo municipio, una città che di municipi, per quanto ne so io, ne aveva soltanto 15. Ne ha soltanto 15, grazie. Il sedicesimo è la rete, internet, è il posto dove si trovano milioni di romani, milioni di stranieri, di turisti, di occupati, disoccupati, di donne, di uomini, di giovani, di bambini, di persone che hanno bisogno di servizi ed è quello di cui io mi occupo, quindi di servizi online, di tutto ciò che è tecnologia. I servizi ci sono, anche quelli online, magari i romani li fanno un po' poco, però è importante fornire strumenti per. Quindi da una parte servizi online, dall'altra l'abbattimento del divario digitale, perché purtroppo esiste anche questo, e non solo gli anziani, ci sono purtroppo anche tanti giovani che hanno difficoltà a fruire dei servizi online, tantissimi stranieri, che già il burocratese è una linguaccia difficile per noi italiani, per uno straniero è ancora peggio. Devo iscrivere il mio figlio a scuola, si iscrive solo online, non sono capace, non ho internet a casa, telefono, prendo appuntamento per uno di quelli che abbiamo chiamato i Punti Roma Facile, dove trovo qualcuno che mi aiuta non soltanto a iscrivere il mio figlio a scuola, che è importante, ma mi aiuta anche a imparare a farlo, quindi la volta prossima lo saprò fare. Questo è il motivo per cui mi occupo del sedicesimo municipio. E oserei dire, è il motivo per cui si trova anche qui a Rom Startup, perché è una vera start-up per quanto riguarda la burocrazia e il municipio di Roma, e qui non possiamo che ringraziarla per la sua buona volontà. Grazie, Roma vuole e può essere un laboratorio per l'innovazione, ed è su questo su cui stiamo lavorando anche con i miei colleghi. Grazie a tutti.